Buongiorno a tutti, grazie Andrea, grazie anche per l'ospitalità e a te Politecnico e al centro di ricerca per aver fondamentalmente e principalmente organizzato questa iniziativa molto importante anche a mio avviso. Mi dispiace è saltata la formattazione ma spero si leggano i contenuti. Questa è una presentazione che faccio io ma non è frutto di un lavoro di un gruppo di persone molto ampio, principalmente un gruppo di persone del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, lo ricordava prima il direttore di Arpa Lombardia che quest'anno per la prima volta dall'entrata in vigore della 132, come detto questa mattina, ha curato questo rapporto con quindi un notevole contributo del livello regionale, lo ricordava pure Damiano poco fa, ma questo rapporto che non vuole essere un rapporto autoreferenziale del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, vuole aprirsi anche come contributi al mondo esterno, al mondo della ricerca, dell'università, al mondo istituzionale e quindi qui in questa immagine vedete un elenco molto ampio dei soggetti, sperando di non aver dimenticato nessuno, ovviamente che hanno contribuito. Questo per rafforzare il concetto che è un lavoro complesso, è un lavoro ampio, che si avvale quindi di una rete di agenzie che sicuramente hanno un ruolo sul territorio, soprattutto nel campo del monitoraggio ad oggi, ma insomma abbiamo capito anche in una logica di contenimento progressivo del fenomeno, quindi anche un ruolo attivo, e che contribuiscono a questo prodotto. È quindi un lavoro che permette ad oggi di fornire un quadro nazionale omogeneo e completo, aggiornato annualmente sul fenomeno del consumo di suolo, e che ci dice che ad oggi, quindi in realtà al 2016, questi sono i dati più aggiornati, abbiamo un livello di consumo di suolo di oltre il 7%, abbondantemente oltre il 7%, abbiamo superato nel corso del 2016 la soglia dei 23.000 km2 di suolo artificiale, con il picco in alcune regioni, in particolare la Lombardia, che sfiora ormai il 13% del territorio, quindi quasi il doppio della media nazionale, che ricordiamo a sua volta è quasi il doppio della media europea, il livello di consumo di suolo in Italia. Quindi abbiamo una situazione molto preoccupante, che come vedete da questa mappa, che identifica nei colori del rosso e più scuri, le aree più artificiali, invade molti dei territori più importanti, le pianure, fondi valle, la fascia costiera, si concentra nelle aree, se vogliamo, anche più produttive, proprio per richiamare ancora una volta quello che diceva Damiano prima, questa competizione fra gli usi del suolo, che vedono però buona parte delle aree agricole più importanti poi soccombere rispetto a questa forza del consumo di suolo. Ci sono regioni chiaramente con situazioni migliori, da questo punto di vista, in termini quantomeno di percentuali di area artificiale, ma questo deriva sicuramente anche da una situazione orografica, che vede magari una prevalenza di aree montane o altro. La Valle d'Aosta è l'unica regione ad oggi sotto il 3% del suolo artificiale. Che cosa abbiamo fatto? In soli sei mesi, cioè tra il novembre 2015 e il maggio 2016, abbiamo perso altri 5.000 ettari di suolo, quindi una velocità di circa 3 metri quadri al secondo, che è una velocità ridotta rispetto al passato, abbiamo toccato all'inizio degli anni 2000 anche valori di 8 metri quadrati al secondo, ma una velocità comunque significativa considerando il momento, anche questo richiamato stamattina, di una crisi economica che ha toccato fortemente il mondo anche dell'edilizia e non solo. Anche in questo caso, analizzando le trasformazioni di questo periodo, vediamo che sono situazioni molto diverse sul territorio, in questo caso ancora abbiamo un primato della regione Lombardia che ha il valore più alto in termini di ettari artificializzati in questi sei mesi. È un periodo temporale leggermente variabile, nel senso che in alcune regioni sono un po' più di sei mesi, in altre si allineano sui sei mesi, ma insomma sono dati omogenei a livello nazionale, quindi permettono chiaramente di avere un quadro di questo tipo. Se andiamo a vedere che cosa vuol dire consumare 5.000 ettari, qui abbiamo cercato di dare un valore in qualche modo per dare un'idea di questa superficie, ebbene 5.000 ettari sarebbero in grado di ospitare qualcosa come 200.000 villette sul nostro territorio, oppure un'autostrada di 2.500 km. Questo è quello che noi abbiamo fatto in sei mesi sul nostro territorio. E quindi una riduzione che è sicuramente non sufficiente. Ancora una volta, se vediamo un quadro a livello provinciale, questa ripartizione delle variazioni conferma quello che dicevamo prima, cioè che ci sono alcune zone dove il tasso di trasformazione della velocità è decisamente superiore alle altre. A livello provinciale, qui vediamo le prime 20 province in termini di incremento assoluto del consumo di suolo tra il 15 e il 16, vediamo che ad esempio Treviso e Salerno hanno superato i 180 ettari soltanto in questo periodo. Se invece analizziamo il livello comunale, qui vediamo i comuni con più di 150.000 abitanti, è Roma che ha avuto l'incremento maggiore con una superficie pari a 54 ettari di nuovo suolo artificiale. Ovviamente Roma è un comune molto ampio, più ampio anche di molte province, quindi questo dato va letto anche in questa logica. Voglio però evidenziare un punto particolare, anche perché da quello che diceva Luca prima, in realtà dimostra che noi siamo un po' in controtendenza rispetto al dato che citava lui, del rinverdimento delle nostre città. Perché? Perché più della maggior parte, più della metà delle trasformazioni avvenute tra il 2012 e il 2016, quindi un periodo un po' più lungo per dare un po' più di consistenza a questi numeri, è avvenuto in aree urbane o periurbane. Quindi è in qualche modo un processo di densificazione del tessuto già costruito, che quindi si coniuga con invece un necessario processo di rinverdimento delle nostre aree urbane. Se noi poi analizzassimo, come abbiamo fatto in questa immagine, un periodo ancora più lungo, quindi arriviamo al 2006, qui vediamo che il 22,3% dei cambiamenti nelle principali aree urbane, quindi questo non sono a livello nazionale, ma si concentrano sulle principali aree urbane, riguarda la densificazione di queste aree a fini residenziali. Il 27,9% nuove aree industriali e commerciali, il 23,1% è un'espansione, quindi su aree naturali o agricole, di aree urbane a bassa densità. Quindi il fenomeno classico dello sprolo urbano, quindi l'espansione urbana a bassa densità. E' di fatto assente in questo periodo temporale, se non al di sotto del punto percentuale, l'espansione urbana ad alta densità, quindi la classica lottizzazione è ormai un modello dimenticato, verso quindi o una densificazione da un lato, o un'espansione invece a bassa densità, quindi molto più energivora dal punto di vista del consumo di suolo e quant'altro. Quest'anno nel rapporto abbiamo riportato anche una nuova valutazione che valuta la frammentazione del territorio e quindi abbiamo analizzato su una griglia omogenea il livello di frammentazione del paesaggio dovuto alla presenza di infrastrutture o altri elementi artificiali. E in questo caso vediamo che oltre il 40% del territorio italiano ha una situazione di elevata frammentazione, che sono le zone rosse di questa carta che vedete sulla slide. Questo ci fa vedere come in realtà la situazione di frammentazione del territorio va anche oltre le aree di suolo artificiale, ma invade delle superfici che magari erano più tendenti al verde nella mappa che abbiamo visto all'inizio e che invece sono comunque altamente frammentate, soprattutto in questo caso da evidenziare il ruolo delle infrastrutture. Questo elevato livello di consumo di suolo ovviamente ha fatto sì, e questo non è un processo solo di oggi, ma non sembra comunque del tutto arrestato ancora oggi, ha invaso aree che in qualche modo avrebbero dovuto essere maggiormente tutelate, quindi abbiamo che l'11% del suolo oggi artificiale ricade in aree a pericolosità idraulica, quindi quasi un elemento su dieci del suolo artificiale è in queste aree. E lo stesso in aree a pericolosità da frana, l'11,8%. Se andiamo ad analizzare la fascia costiera, quella entro i 300 metri dalla linea di costa, abbiamo che lì dentro, in questa sottile fascia, il 23,2% è artificiale, quindi quasi un quarto di questa sottilissima fascia importantissima dal punto di vista ambientale, ma paesaggistico, anche economico, è ormai artificiale. E anche la fascia entro i 150 metri dai corpi idrici è ormai artificializzata per un 7,3%. Quindi, insomma, una situazione che è preoccupante è che comunque vede lontano questo obiettivo del 2050, richiamato da Luca poco fa, questo obiettivo europeo di azzeramento del consumo di suolo. Anche perché da qui al 2050 gli anni sono molti e noi abbiamo provato a fare anche degli scenari per capire che cosa succederà da qui al 2050. E in particolare i nostri scenari mostrano che se noi attivassimo delle politiche efficaci di riduzione progressiva del consumo di suolo, quindi stiamo parlando di questa retta verde che è la più bassa del grafico, quindi delle politiche che effettivamente progressivamente portino all'azzeramento del consumo di suolo, comunque arriveremmo a perdere altri 1.635 km2 del suolo. Se invece la velocità si mantenesse costante rispetto a quella registrata negli ultimi sei mesi, che come richiamato è una velocità comunque piuttosto bassa rispetto alla situazione degli anni precedenti, bene, questa superficie arriverebbe a toccare 3.270 km2. Se invece addirittura l'uscita dalla crisi economica, come paventava anche Damiano poco fa, facesse tornare a tassi di trasformazione quali quelli più elevati o medi che abbiamo toccato nel corso degli ultimi decenni, addirittura arriveremmo a coprire qualcosa come 7.000-8.000 km2. Anche qui per dare un'idea, 8.000 km2 sono quasi il 40% del suolo attualmente artificiale in Italia, cioè rischiamo di fare in questi pochi anni che ci mancano da qui al 2050, un 40% quasi in più di quello che abbiamo fatto da sempre in Italia, dall'inizio della storia dei romani fino al 2016, ma ne rischiamo di farne un altro 40% in più soltanto al 2050. Questo dimostra che è ovviamente urgente un'approvazione di una legge nazionale efficace, a mio avviso, che possa incidere fortemente su queste dinamiche, anche perché, ecco, anche con una logica di normazione efficace del fenomeno, comunque rischiamo di avere questi numeri. Abbiamo aggiornato anche i dati sui costi del consumo di suolo, quindi sulla perdita di quei servizi ecosistemici richiamati stamattina, in particolare di quelli derivanti dal consumo di suolo avvenuto tra il 2012 e il 2016. Bene, ci portiamo praticamente, ognuno di noi ha in qualche modo una sorta di debito ecologico che ci troveremo a pagare da quest'anno in avanti, per un totale di una cifra compresa tra 630 e 910 milioni di euro l'anno, soltanto per le trasformazioni di questi quattro anni analizzati. Se vedete, la gran parte dei costi sono proprio legati alla perdita di produzione agricola, anche perché il consumo di suolo è in gran parte avvenuto a discapito di aree precedentemente utilizzate a questi fini. All'interno del rapporto e poi sul nostro sito istituzionale potrete scaricare ovviamente tutti i dati, anche a livello poi comunale, provinciale e quant'altro. Un brevissimo accenno, se ho ancora un minuto, alla metodologia, perché poi questo sicuramente si tornerà nella sessione successiva, e in particolare anche con i colleghi di Arpa Lombardia. Però per dire che comunque ad oggi anche il ruolo della Commissione europea, in particolare con il programma Copernicus, è un elemento fondamentale, perché ci permette di avere effettivamente un insieme di informazioni puntuali, liberamente accessibili, che sono la base per fare una classificazione del territorio. In particolare quindi nell'ambito del programma Copernicus, che ricordo che ad oggi ci fornisce di fatto un'immagine settimanale del nostro paese, dell'intero globo terrestre, disponibile a tutti liberamente, senza bisogno di nessuna complicazione di accesso ai dati, eccetera. Stiamo parlando per il rapporto di quest'anno di circa 70 scene, 70 granuli così chiamati, che comportano qualcosa come 3.000 immagini anno analizzate, cioè 2 terabyte l'anno, che noi più o meno come sistema nazionale analizziamo e gestiamo per fornire questo quadro. Qui vedete un esempio, un confronto multitemporale delle immagini, siamo a Torino, ma insomma altri esempi possono essere analizzati, anche qui adesso senza voler dare dei numeri ulteriori, che già non dati tanti, però anche per dare un'idea qualitativa di quello che sta succedendo, vediamo che effettivamente la sensazione, chiaramente generalizzare un periodo temporale così ristretto è anche pericoloso, però è ovvio che in questo periodo temporale che abbiamo analizzato possiamo tirare fuori delle valutazioni quantomeno qualitative, se vogliamo, quindi il ruolo delle infrastrutture è un ruolo importantissimo e il ruolo dei grandi interventi, quindi parliamo dei poli logistici, questo che vedete qui è proprio quello che richiamava Barbara Miggetto stamattina, quindi siamo a Calcio, in Lombardia, ma anche i classici poli commerciali, tutt'altro che non si è fermata questa progressione di questi enormi poli del commercio che in qualche modo invadono anche aree non più soltanto periferiche, ma anche vanno a densificare aree già artificiali, poi c'è anche se rallentato rispetto al passato comunque l'avanzata del fotovoltaico a terra, e poi l'edilizia che sicuramente incide in maniera molto più ridotta, soprattutto rispetto al passato, e incide soprattutto attraverso interventi di densificazione, quindi andando a saturare spesso spazi urbani naturali o residui in area urbana. Quindi qui vedete un paio di tavole a livello regionale, ma non entro nel merito, anche perché poi qualcuno dopo di me ne approfondirà il livello regionale, però fa piacere che poi anche Damiano lo ricordasse prima, questo è un rapporto che quindi rende disponibile e accessibile un quadro omogeneo di confronto anche a livello regionale, grazie al contributo del sistema delle agenzie per le regioni e per le province autonome. Quindi vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che tutto il rapporto, ma tutti i dati, sono disponibili liberamente in open data sul nostro sito, e vi invito quindi ad accedere, a utilizzare e a fornirci anche eventuali suggerimenti per il miglioramento futuro. Grazie. Grazie, grazie a Michele Munafo, anche per essere stato nei tempi in maniera perfetta. Mi sembra molto importante sottolineare anche questa attenzione agli aspetti qualitativi, la dimensione delle funzionalità ecosistemiche dei suoli che veniva già richiamata da Luca Montanarella, diventa una questione ormai sempre più importante, non solo quindi tipo quantitativo per affrontare il tema del contenimento del consumo di suolo. Gli impatti sono molto maggiori rispetto alla quantità, diciamo così, di superficie di suolo che effettivamente consumiamo. Poi oltre a una valutazione economica di questi costi, che forse è ancora qualche elemento di criticità o di affinamento o di affari, andrebbero anche tenuti conto di costi sociali o di costi paesaggistici di questi impatti che forse non sono nemmeno misurabili in termini economici ma sono assai rilevanti.